Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Crank Brothers SOS Bottle Cage Toolkit con la predisposizione per una borraccia, questo tool si attacca a qualsiasi porta borraccia, ha un multitool con un sacco di attrezzi, levagomme, vermicelli, anche la predisposizione qui per metterci una bottiglietta di CO2 o una pompa, una piccola pompa, per tenere tutto attaccato al telaio, utile per chi non vuole portarsi uno zaino, un marsupio, quindi ha tutto qui a disposizione, tutto è necessario per emergenza, quindi per collodare delle viti, per le regolazioni, per le forature, per gonfiare le gomme, per togliere le gomme, camera d'aria eccetera, tutto a portata di mano attaccato alla propria bicicletta. Eccolo qui in tutto il suo splendore, il multitool, un sacco di funzionalità, qui abbiamo anche l'attacco per una maglia magnetico, qui abbiamo il tool per le forature con vermicelli, questo fa anche la levagomme, altri vermicelli qui, qui c'è lo smagliacatena e anche l'attacco per la CO2, per gonfiare le gomme. Questo è il tubo in cui poi si può infilare il multitool per fare maggiore leva e qui è l'attacco di porta borraccia. Forse un po' troppo duro, complicato a rimuovere i pezzi, magari attaccato a terraio si fa ancora più difficoltà, però i materiali sembrano davvero di ottima qualità. Poi nell'utilizzo vi saprò dire come andrà, per il momento l'attaccherò alla bicicletta e cercherò di capire come funziona perché c'ha davvero tantissime funzionalità, in ogni modo cercherò di mettervi il link al video di Crankbrothers in cui mi mostra tutte le funzionalità e il montaggio e l'utilizzo degli strumenti. Eccolo qui montato sulla mia RISE, io in questo momento ho messo qui a questo lato una bomboletta di CO2, ma potrebbe anche andare, se lo preferite, una mini pompa classica. Così abbiamo tutto a portata di mano qui sulla bicicletta e possiamo evitare di portarci in tasca o nel marsupio altri attrezzi. E voi l'avete provato? Fatemelo sapere nei commenti e grazie per attenzione e al prossimo video. Ciao!